Io sono Francesco Stramacci, sono il fondatore e titolare del Movie Restaurant. Lorenzo mi ha voluto qui per tentare di parlare del format Movie Restaurant in chiave identità differenziante e comunicazione coerente. Noi siamo aperti da otto mesi, dal 23 febbraio, e ad oggi noi abbiamo avuto il sold out tutti i giorni con una media di circa 85-90 coperti al giorno. A un certo punto abbiamo aperto le prenotazioni. Due giorni prima abbiamo scritto, ok, adesso sapete il prezzo, sapete quello che succederà prima, sapete quello che succederà dopo, fino a un certo punto, perché non abbiamo svelato tutto naturalmente. Il giorno X, allora X, apriremo le prenotazioni solamente tramite telefono. Non venite al ristorante, non ci scrivete su WhatsApp, dovete chiamare. Cosa è successo? Delirio. Lo vedete in queste foto. Guardate quella centrale, è cerchiato Movie Restaurant, cellulare. Questa è una persona che ci ha chiamati 331 volte, ma ci sono persone che ci hanno chiamati, non dico una storia, 450 volte. La scalabilità del progetto. La scalabilità del progetto e il futuro. Rendere questo scalabile è veramente l'impresa che dobbiamo cercare di affrontare. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.